La voce 24 news Italia, Pizza Day. Oggi 17 gennaio, è la festa per l'icona made in Italy. Dal punto di vista economico, i dati coldiretti parlano di un settore con un fatturato che sale a oltre 15 miliardi di euro all'anno. L'occupazione stimata è calcolata invece in 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti nel weekend. Sotto il profilo dei consumi, la pizza margherita, secondo l'analisi coldiretti, resta la più consumata, mentre, a livello planetario, gli americani sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa. In Europa gli italiani sono in testa con 7,8 chili all'anno, seguono spagnoli 4,3, francesi e tedeschi 4,2, britannici 4, belgi 3,8, portoghesi 3,6 e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite annui, chiudono la classifica. Le pizze più ordinate a livello nazionale sono state la pizza margherita, la diavola e la capricciosa. Campania News. Vibonati, Salerno. Il giudice ordinario non è competente a decidere sul contenzioso relativo ai rifiuti in corso tra il comune di Vibonati e la General Enterprise. Questo è quanto emerso ieri mattina presso il Tribunale di Lago Negro dove si è tenuta l'udienza. Il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dal legale del comune, l'avvocato Marcello Feola. La vicenda quindi ora dovrà approdare presso il Tribunale delle Imprese di Potenza con un inevitabile allungamento dei tempi. La vicenda partita a Vibonati, prima attraverso lo scontro politico con il gruppo di minoranza, infine attraverso le azioni della maggioranza che, ha dato il via ad un percorso di rescissione del contratto. Il comune di Vibonati con procedura negoziata ha già provveduto ad individuare una nuova ditta, la Pellicano Verde che dalla settimana prossima sarà operativa. Nel frattempo l'ufficio preposto comunale ha incorso la procedura per l'appalto definitivo della gestione dei rifiuti che sarà assegnato per tre anni. Campania. La mammografia con contrasto sarà inserita tra le prestazioni erogate dal sistema sanitario regionale. Con l'approvazione della mozione, a firma del consigliere Tommaso Pellegrino capo gruppo di Italia Viva in consiglio regionale. La Campania si conferma all'avanguardia nella lotta al tumore della mammella, dichiara il consigliere Pellegrino. Con l'approvazione all'unanimità in aula della mia mozione, con la quale si impegna la giunta a inserire la mammografia con contrasto nel nomenclatore delle indagini previste dal sistema sanitario regionale, la Campania si conferma una regione modello nella lotta al tumore della mammella. Dichiara Pellegrino. La CEM, comune pratica clinica in molti paesi europei e negli USA, rappresenta un prezioso e utile presidio diagnostico nella diagnosi del tumore della mammella. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa del consigliere Pellegrino. Campania. Sono pronto a confrontarmi con chiunque sui temi dell'organizzazione sanitaria della Campania. Tenendo conto del personale e delle risorse con cui lavoriamo, posso dire senza tema di smentita che siamo la regione all'avanguardia in Italia. È quanto ha dichiarato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un'inaugurazione all'ospedale Moscati di Avellino. Secondo De Luca, a differenza di altre regioni come Emilia Romagna e Toscana, ospedali e asel della Campania, hanno i bilanci in attivo da due anni a questa parte. E in merito al governo Meloni ha aggiunto. Sta uccidendo la sanità pubblica e i 3 miliardi di stanziamenti servono a malapena per i rinnovi contrattuali. Ha poi affrontato la tematica relativa ai fondi europei di sviluppo e coesione definendola una vergogna nazionale. Il ministro Fitto firma i patti con tutte le regioni del nord e con nessuna del sud. La Campania attende i 6 miliardi che le spettano bloccati da mesi, soprattutto per destinarli ai comuni che sono alla canna del gas. Tutto ciò è il frutto di un ricatto di una classe dirigente di governo stupida e incapace. Cilento, Salerno. Un cilentano tra gli arbitri internazionali di Futsal, si tratta di Simone Zanfino New Entry di questo nuovo anno. Simone Zanfino, direttore di gara proveniente dalla sezione di Agropoli. Grande risultato per il cilentano che dopo aver disputato una grande stagione tra i professionisti della Lega di Futsal di Serie A, ha ricevuto la nomina di direttore internazionale nella nuova assegnazione della lista FIFA. Orgoglio e soddisfazione da parte di tutto il movimento calcio a 5 italiano. Basilicata News. Potenza. Dopo numerose delibere emanate nei mesi scorsi, a fine 2023 ed inizio anno nuovo, sono stati firmati i contratti che permetteranno di dare avvio ai lavori e quindi veder realizzate, entro il 2026, le case di comunità, gli ospedali di comunità ed entro la fine del 2024, le COT, ovvero le centrali operative territoriali. Ne dà notizia l'assessore alla salute e politiche della persona della regione Basilicata, Francesco Fanelli. Per quel che riguarda il territorio del Materano, l'azienda sanitaria locale di Matera dovrà raggiungere i traguardi previsti dal PNRR. I lavori dovranno partire entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Calabria News. Calabria. Voglio continuare a fare. Ebbene, il presidente della regione Calabria per altri tre anni. Non credo di avere la forza per proseguire anche dopo. Lo ha detto il presidente della regione Calabria. Non sono interessato a candidature alle europee, non sono interessato ad altro. Se fossi stato interessato ad altro non avrei fatto il presidente della regione. La voce del meridione. Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale youtube. Resta sempre informato.